Abbiamo fatto due settimane di preparazione, tre settimane poi siamo partiti per le competizioni perché avevamo avuto poche vacanze, quindi facciamo una preparazione un po' diversa. Però, anzi, so io che a volte dico, Giampi, ma non gli stai facendo fare niente a questi. A volte so io che cerco di spingerlo perché lui mi dice, no Fabio, ma tranquillo. Ma sai, ormai l'esperienza l'ha fatta lui, ha avuto grandi soddisfazioni, ha avuto grandi legnate e alla fine l'esperienza è una via di mezzo. Sì, sì, no, no, ma sono contento. Ma sai cos'è che alla fine, Andre, io vado a rivedere le partite dei primi anni di quando sono arrivato e le partite di adesso. E comunque lo vedi che il lavoro c'è. Prima erano abituati a rilanciare subito sta palla su, giocavano poco, pur essendo una squadra che ha vinto tantissimo. Perché poi era venuto Mister Lippi, poi c'è stata Scolari, che con Scolari avevano fatto bene, ma giocavano poco. E invece adesso stanno giocando un buon calcio. Ma invece il nazionale, il mister è andato via, chi c'è adesso? Adesso c'è un cinese. Adesso c'è un cinese. Ma invece con te cosa era successo? Eri andato poi? No, io sono andato perché la società mi aveva chiesto di... Dato che non avevano l'allenatore, sono andato perché la nostra società ha un buon rapporto col... Eh sì, lo so. Però sono andato lì e a un certo punto poi ho fatto una scelta perché farle tutte e due era impensabile. E ho scelto la squadra e bene ho fatto perché l'anno scorso tra il campionato e il semifinale di Champions Asiatica non siamo andati male. Ma perché? Perché comunque ci avevamo giovani, Andrea. Un momento buono, buttato dentro 4-5 cavalli quelli giusti, volavano. Ma invece la temperatura com'è? Ma Adria... C'è caldo o adesso no? Adesso no. Adesso inizia il periodo della pioggia. Però tra un poco inizia a essere umido e il brutto è quello. Fino a settembre, ottobre inizia a essere umido ed è difficile giocare qui con questa umidità. Chi lo sa? Adesso finirà... Magari inizieranno a fare un po' come la Russia. Sarà un buon'opportunità per fare il campionato come la Russia. Ah sì. Giocare 4 mesi, 2 mesi si fermano per la sosta invernale e ricominciare. Così è anche buono per adeguarsi ai campionati europei. Eh sì. Potrebbe essere... Anche perché poi con i mondiali, poi l'anno prossimo, tra due anni, devono adeguarsi un po' tutti, eh? Sì. Sì. Perché lì come fermeranno i campionati 2 mesi? Minimo. È certo. Ormai qui si fermano tutti i campionati. Col mondiale in Qatar che è gennaio-febbraio è normale. Che casino. Eh ma... Chi lo sa adesso col fatto che... Si sono fermati i campionati, se si rinvia tutto. Cioè, ormai è tutto da rivedere. Sì, no, infatti. Avete diventato un pazzo in Qatar se sospendono i mondiali. Mamma mia, non sia mai con tutti gli investimenti che hanno fatto... Avece impiegano 3 secondi anche a buttarli giù e rifarli loro, eh? Sì, sì, questo è anche vero. Se non gli sono piaciute, buttano giù e rifanno. Sì, sì, questo è anche vero.